ciao a tutti amici delle candele profumate ben ritrovati sul canale sotto la lampada vi siete ripresi dalle feste siete ancora un po affaticati dalle mangiate con questo video mettiamo un po da parte l'albero le luci e babbo natale e iniziamo un po a sognare la primavera i prossimi video infatti saranno dedicate alle nuovissime fragranze primaverili yankee candle che vedete un po qui e non vedo l'ora di raccontarvele tutte per questo video ringrazio paggicasalinghi sul sito www.paggicasalinghi.it potrete trovare tutte le yankee candle queste novità ma anche i classiconi e se le candele profumate non vi bastano ci sono anche tantissimi articoli per la casa niente male prima di partire con la recensione ricordati il like e ovviamente iscriviti al canale perché non puoi perderti tutte le prossime novità del 2022 parto con una panoramica di queste 12 nuove fragranze in questo nuovissimo formato che è praticamente un votivo in vasetto di vetro come ce lo racconta la casa questo nuovo formato provate le fragranze yankee candle in un nuovo formato le candele sampler yankee candle hanno le stesse autentiche fragranze delle nostre candele più grandi che fanno di queste piccole chicche una soluzione facile e adorabile per provare qualcosa di nuovo avete scelto la vostra preferita create una combinazione di diverse candele della stessa fragranza per aggiungere un po di luccichio e di profumo alla mensola del caminetto o ad un tavolo ogni mini candela è confezionata singolarmente che la rende anche una perfetta idea regalo per qualsiasi occasione allora devo dire che come primo impatto a me piacciono andando un pochettino più sul tecnico vediamo che in queste candele appunto in votivo di vetro ci sono 37 grammi di cera mentre nel votivo classico ce ne sono 49 per quanto riguarda i costi il votivo in vetro costa 4 euro e 50 mentre il votivo classico 2 euro e 90 quindi abbiamo in realtà più cera ad un prezzo inferiore qui costa un pochettino di più però abbiamo il barattolino in vetro allora personalmente per me che utilizzo la lampada questi votivi in vetro sono molto comodi perché non devo andare a cercare magari un contenitorio in plastica oppure lo stampino dei muffin in silicone per andare poi a tagliare il votivo o la tarte di riferimento inserirla sotto la lampada e poi mi trovo 10.000 di questi contenitori tutti diversi e mi dà anche un po un senso di disordine invece questi sono carini li metti direttamente sotto la lampada ed è facile rimangono sicuramente più ordinati più carini possono essere utilizzati nel momento in cui avete finito la fragranza in questione per inserire altri votivi normali o altre tarte dal punto di vista prettamente economico ovviamente qui abbiamo meno cera e magari alle persone non interessa essere riempite di vetro e avere mille barattolini sparsi per la casa quindi fatemi sapere cosa ne pensate sono molto curiosa e di appunto sapere la vostra opinione di questo nuovo formato perché ho già letto nelle community che ci sono stati un po di mal di pancia quindi sono molto curiosa e fatemelo sapere qui sotto nei commenti finito il pipozzo sul nuovo formato vi introduco finalmente le protagoniste di questo video e di questa recensione che sono le tre fragranze della collezione primaverile Yankee Candle Sakura Blossom Festival assaporate la bellezza e la pace seduti sotto i ciliegi in fiore ecco quindi la Majestic Mount Fuji la Sakura Blossom Festival che dà il nome appunto alla collezione e la Sweet Plum Sake iniziamo con la Majestic Mount Fuji questa fragranza è disponibile in tutti i formati in questo video vi faccio vedere il votivo in vetro il votivo classico e la giara media l'etichetta della giara classica riporta al monte icona del Giappone incorniciato dagli altrettanti iconici rami di ciliegie in fiore la luce è delicata potrebbe essere un'alba o a giudicare dalle luci un tramonto il colore della cera è di un grigio ceruleo azzurrino perfettamente primaverile c'è stato nel 2022 un lieve aumento dei costi quindi abbiamo la giara media che costa 26,90 euro quindi un euro in più rispetto agli scorsi anni il votivo che costa il votivo classico che costa 2,90 euro al posto dei soliti 2,65 euro mentre come vi ho detto già prima il votivo in vetro costa 4,50 euro come la Yankee Candle descrive questa fragranza respirate l'aria fresca di montagna e i freschi toni acquatici con note ispirate all'acqua di cocco e alla pera bagnata della rugiada che vi circondano mentre ammirate le montagne sullo sfondo e gli alberi di ciliegio fa parte della famiglia olfattiva fresh and clean e le note aromatiche sono di testa abbiamo ozono fresco, aldeidi frizzanti, bergamotto e pera bagnata dalla rugiada di cuore fiore di cactus, aloe vera, fiore di melo e acqua di cocco di fondo legno d'ambra, muschio blu, foglia di tè e legno di cedro la smuffio a freddo e vi do le mie impressioni dunque a freddo la sensazione è di una fragranza acquatica, dolcina e leggermente fiorita il mix è piuttosto omogeneo, percepisco bene il bergamotto floreale e fresco e anche l'acqua di cocco con quella nota un po' zonica ci sento anche molto bene la componente ambrata che dona un carattere morbido e femminile bene, ora la metto sotto la lampada, non questa perché è troppo grande ma quella più piccolina procedo questa fragranza travestita da timida si fa ben sentire, l'intensità è molto buona accendendola in soggiorno al profumo si è diffuso nelle stanze adiacenti le note ozoniche e acquatiche continuano ad essere le protagoniste ben mixate con i fiori che sono delicatissimi, dolci e morbidi non si tratta quindi di una risultante fiorita e pungente ma più un'acqua profumata e un po' ambrata con un fondo di note legnose che chiude perfettamente la composizione la risultante è dolce, non stucchevole nel complesso più che ricordarmi l'aria di montagna del monte Fuji mi ricorda più un ambiente acquatico primaverile e ora si passa ai voti come intensità della fragranza sotto la lampada 2 su 3 molto buona l'intensità, provato solo il votivo in vetro e questo profumo si sente molto bene in una casa di medie dimensioni come veridicità 2 su 3 di tutte le note dichiarate alcune sono sicuramente fantasiose come Yankee Candle solo può fare la risultante è comunque una profumazione molto veritiera e non artificiale come complessità 2 su 3 la piramide è ben affollata ma non estremamente ricercata tralasciando le note buffe a livello di persistenza 2 su 3 anche la persistenza è molto buona il profumo persiste per una buona oretta una volta spenta la lampada e ora spengo e passo alla Sakura Blossom Festival anche questa fragranza è disponibile in tutti i formati in questo video vi faccio vedere il votivo in vetro, il votivo classico e la giara grande la cera è di un bianco candido e lattiginoso mentre l'etichetta ci mostra e ci fa sognare il famosissimo festival giapponese della fioritura dei ciliegi Sakura per chi non lo sapesse è proprio il fiore di ciliegio giapponese e la sua fioritura è uno spettacolo che in Giappone occupa tutta la primavera e si può ammirare da inizio aprile il costo da listino per la giara grande anche lui è aumentato 31,90€ mentre i prezzi del votivo in vetro ve l'ho già detto 4,50€ e il votivo classico 2,90€ sempre passiamo alla descrizione della casa dalla vostra coperta da picnic stesa sul prato a una festa Sakura un dolce bouquet di note che ricordano i fiori di ciliegio, la rosa e la fresia danza nell'aria e si unisce ai festeggiamenti fa parte ovviamente della famiglia olfattiva fiorita e le note sono le seguenti di testa abbiamo bacche rosse, mela e pompe il morosa di cuore fresia rosa e fiori di ciliegio di fondo legno di sandalo, vaniglia e latte di mandorla ora apro la giara grande e vi dico un po' le mie impressioni dunque anche se definita come una fiorita la percezione almeno a freddo è sempre di un qualcosa di fresco, arioso, pulito c'è sì assolutamente la componente fiorita però mi sembra un po' dello stesso livello della Mont Fuji di prima il fiore di ciliegio è sicuramente il protagonista però ci sento bene anche la frutta che dà un po' di corposità alla fragranza ci sento bene anche la vaniglia che dà proprio la dolcezza di questa profumazione e le bacche rosse un po' asprine e ora, non questa perché come al solito non ci entra andiamo sotto la lampada sotto la lampada la fragranza ha un carattere delicato è un profumo femminile, elegante, ma non vecchio anzi, giovane e fresco come anticipato a freddo la risultante è un profumo di fresco, pulito, fiorito di aria primaverile delle prime giornate tiepidine post inverno frutti, fiori, vaniglia e mandorla un profumo cremoso e allegro e ora passo ai voti come intensità della fragranza sotto la lampada 1 su 3 il profumo di questa Sakura Blossom Festival è piuttosto delicato a livello di veridicità 2 su 3 le note dichiarate in piramide si sentono praticamente tutte e sono piuttosto veritiere come complessità 2 su 3 molto interessante l'abbinamento delle note fruttate e fiorite pur facendosi immaginare come una fragranza semplice sotto la lampada ci stupirà a livello di persistenza 1 su 3 una volta spenta la lampada questo profumo delicato svanisce abbastanza in fretta e ora spengo e concludo con la Sweet Plum Sake anche questa fragranza è disponibile in tutti i formati in questo video vi faccio vedere il votivo in vetro e il votivo classico la cera è di un colore rosantico magenta e l'etichetta riporta la famosissima bevanda alcolica giapponese due bicchieri di sake appunto per non farcelo mancare anche qui sempre presente il fiore di ciliegio come ornamento decorativo i costi da listino sono i soliti quindi 2,90€ per quanto riguarda il votivo classico e 4,50€ per il votivo in vetro ora passo alla descrizione della casa concludete la perfetta giornata di festeggiamenti con un bicchiere di sake delicati aromi che evocano la dolce prugna si combinano con invitanti note ispirate al lampone e al vino di riso fa parte della famiglia olfattiva fruttata e le note aromatiche sono le seguenti di testa abbiamo succo di limone, prugna giapponese mela fuji, lampone e note verdi di cuore, ribes rosso, fico nero mango, accordo di sake, vino di riso di fondo legno di cocco, vaniglia e merlotte invecchiato ora la smuffio e vi dico un po' quali sono le mie prime sensazioni beh, di primo impatto ci sento la prugna la prugna accompagnata da frutti rossi vari la nota alcolica la sento però davvero leggerissima mi ricorda un po' il profumo del vino alla prugna che servono solitamente al ristorante cinese però qua siamo in giappone vabbè non importa non sento a freddo la sprezza del limone e delle note verdi dichiarate in piramide però sono molto curiosa e la provo subito sotto la lampada dopo circa una mezz'oretta dall'accensione inizia a distinguersi la fragranza da accesa decisamente si fa più evidente la nota alcolica ovviamente non eccessiva ci percepisco un vino profumato alla frutta nel particolare ai frutti rossi e sicuramente alla prugna e al fico i frutti maturi sono smorzati dalla dolcezza della vaniglia che rende appunto zuccherino il composto fruttato le note di fondo di legno di cocco e merlotte invecchiato danno quella leggera sensazione di vino barricato invecchiato nelle barrique e ora passo ai voti come intensità della fragranza sotto la lampada 1 su 3 mi aspettavo qualcosa di più potente invece il profumo di questa cannella è piuttosto delicato come veridicità 2 su 3 le note fruttate sono molto veritiere non riesco però a cogliere alcune note come quelle verdi e del limone come complessità 3 su 3 molto interessante questa fragranza le note della piramide olfattiva sono molto interessanti combinate con questo tocco nipponico la persistenza 1 su 3 questa profumazione molto delicata tende a svanire piuttosto in fretta e ora vi faccio una mia classifica mi raccomando voglio sapere anche la vostra commentatemela qui sotto al primo posto ci metto la Majestic Mount Fuji delicata, fresca, mi dà proprio un senso di relax e rinfresca la casa con un profumo delicato ma deciso al tempo stesso è una classica fragranza che andrebbe benissimo ad esempio in bagno ma perché no anche in soggiorno molto delicata e davvero sognante una compagna perfetta e non invadente al secondo posto ci metto la curiosa Sweet Plum Sake sicuramente è una fragranza non scontata non la solita fruttata ecco a differenza di altre candele prugnose che ho provato ad esempio la Fig & Plum della Price's Candles questa la trovo più delicata e smorzata dalla vaniglia e dagli altri frutti Sakura Blossom Festival invece al terzo posto bella, bellissima questa candela ma non mi ha entusiasmata più di tanto non perché non sia buona anzi è sicuramente molto piacevole ma mi aspettavo però un qualcosa di diverso una reinterpretazione magari del ciliegio in fiore ma nulla rispetto alle due sorelle della collezione primaverile mi sembra che abbia meno carattere e la vostra classifica qual è? avete già fatto fogli acquisti primaverili? fatemelo sapere qui sotto nei commenti vi ricordo che nei prossimi video vi parlerò anche delle altre nuove fragranze tutte novità della Yankee Candle 2022 quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perderete appunto le prossime recensioni ringrazio ancora Paggi Casalinghi il mio negozio Yankee Candle di fiducia mi raccomando non esitate a contattare il gentilissimo Stefano perché sicuramente vi saprà consigliare per quanto riguarda i vostri acquisti candelosi grazie mille per la visualizzazione se questo video ti è piaciuto lascia un like e mi raccomando iscriviti al canale perché arriveranno come ho già detto un sacco di video recensioni e attiva la campanellina fai passaparola insomma sai tu cosa devi fare grazie mille al prossimo video e alla prossima recensione Yankee Candle ciao ciao